La relazione pericolosa tra Giuseppe Falcomatà e l'articolo 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio, sta diventando ormai imbarazzante. Sarebbe la terza volta infatti che il primo cittadino sarebbe chiamato a difendersi davanti ai magistrati dall'accusa di aver commesso un abuso d'ufficio indossando i panni di sindaco. La nuova ipotesi di reato è stata configurata dalle giudici dell'udienza preliminare Vincenzo Quaranta, il quale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per valutare meglio le azioni compiute o non compiute dall'amministratore nell'ambito del processo che riguarda i broglie elettorali che la Procura ritiene essere stati consumati durante le elezioni comunali tenutosi nel settembre del 2020 nel cosiddetto caso Castorina. Secondo il gruppo Quaranta appare evidente come vi sia stato un preciso disegno da parte del Castorina finalizzato ad assumere illecitamente la veste di componente della Commissione e le funzioni presidenziali, disegno che ha visto necessariamente il coinvolgimento concorso del sindaco e del responsabile dell'ufficio elettorale. È stata l'inerzia di tali organi, il primo politico e il secondo tecnico, a far sì che il Castorina realizzasse l'illecito disegno. E sempre secondo il gruppo Quaranta i comportamenti posti in essere da Falcomatà e dal responsabile dell'ufficio elettorale Antonio Covani assumono rilevanza nella prospettiva sanzionatoria dell'abuso d'ufficio.